Torna alla fase a gironi della Champions League. Stasera per il secondo turno in campo due delle quattro italiane in corsa. Si comincia alle 18.45 con i campioni d'Italia dell'Inter, impegnati a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Alle 21 il Milan ospita al Meazza l'Atletico Madrid del ciolo Diego Simeone. Domani tocca ad Atalanta Juventus. I nerazzurri alle 18.45 ospitano gli svizzeri dello Young Boys, mentre alle 21 all'Allianz Stadium di Torino c'è il big match tra i bianconeri e i campioni d'Europa in carica del Chelsea. Grazie per la visione!